Il tema nello show è molto delicato per noi ristoratori e nell'arco di un anno arrecca gravi danni. Pertanto invito i nostri clienti a rispettare le prenotazioni effettuate e chiedo ai nostri colleghi a creare un format che possa migliorare il nostro servizio, rispettando sempre la nostra clientela che sono il nostro patrimonio più grande.